debutto stagionale in coppa italia eccellenza per varesina e club milano che si sfidano a venegono superiore in una gara che sarà sicuramente ricca di colpi di scena la prima chance è per la varesina la punizione di poesio sembra perfetta monzani con la punta delle dita fa una grandissima parata la risposta è un po timida del club milano con questo sinistro sporco da parte di truzzi ma è comunque una chance per i ragazzi di cristian zenoni al decimo minuto arriva il primo cartellino giallo per truzzi sarà un fattore questo elemento nella partita grande scambio kate e deodato sono loro a giocare davanti viste le assenze del trio offensivo sogno sar erbini il cross di nesmi tacco tentato da kate non trovato poi dall'altra parte si infila russo in area di rigore palla dentro gregov in qualche modo la rovesciata di qua dio castelli la tiene gioca il classico 2003 infatti in porta al posto di spada vecchia dentro ancora kate per teodato grandissima diagonale difensiva di caputo poi al 34esimo arriva il vantaggio della varesina lo scambio tra kate nesmi al limite dell'area conclusione di nesmi che sorprende monzani che sembra un po distratto e un po arrabbiato con i compagni che hanno permesso la conclusione a nesmi primo gol stagionale della varesina è opera dell'esterno che ringrazia il pubblico sul finale di tempo la frittata di truzzi intervento ancora irregolare su deodato che merita il secondo giallo espulsione per il centrocampista del club milano che dovrà affrontare tutto il secondo tempo in 10 zerone corre a ripari togliendo nei nadovici inserendo un centrocampista in più come lo monaco caputo in avvio di ripresa cerca questa palla dentro per locati castelli in uscita coraggiosa la tiene lì poi ancora il club milano in avvio con questo sinistro a giro proprio del neo entrato lo monaco col pallone abbondantemente lontano dalla traversa di castelli e finisce qui la partita offensiva del club milano la varesina spinge per cercare il 2 a 0 con questa conclusione di bellacci dopo un'azione insistita delle finici sono tantissime le chance in ripartenza della varesina una su tutte questa di poesio a tu per tu con monzani tocco dentro a cercare cate forse troppo altruista qui centrocampista capitano della varesina poi monzani altro pasticcio difensivo guardate poesio raccoglie al limite scavetto fantastico traversa che dice di no poi l'azione sfuma per una posizione irregolare a metà tempo inserimento in area di sordillo schianto contro un difensore del club milano in questo caso si tratta di piras l'arbitro lascia correre ma non può fare la stessa cosa dopo qualche minuto con il contrasto tra duke e tomasini calcio di rigore a 10 dal termine dal dischetto capitano claudio poesio in fila con il gol centralmente monzani raddoppia e segna al debutto con la maglia della varesina nel finale c'è un'altra grandissima chance per le fenici va via al 2004 sali mette dentro marcaletti prova la giocata impossibile allontana difesa del clan milano la varesina convince nel suo esotio